Non vedo l'oculio, effettivamente è vero, non è che stiamo di cugina, però purtroppo è arrivato il momento. Dove stare bene, vado in campagna alla mattina, alla mattina vado in campagna, pomeriggio mi metto a dormire. Ed eccolo qui Vincenzo, 94 anni, il primo vaccinato tra gli over 80 all'interno del Dipartimento di Prevenzione di Andrea. La campagna vaccinale in questa seconda fase ha preso il via oggi nella sesta provincia pugliese, come in tutta la Puglia. Questa mattina il primo viaggio a domicilio del personale del Dipartimento Andriese con la vaccinazione di Suor Vittoria, 87 anni, all'interno del convento in cui vive. A somministrargli la prima dose sono stati il dottor Giancarlo Cannone e la dottoressa Anna Maria Zagaria dell'Ufficio Igiene Andriese. In totale nella BAT, nella prima giornata di somministrazione, sono state inoculate oltre 500 dosi di vaccino destinate agli over 80. Il numero maggiore a Trani, dove l'amministrazione comunale ha messo a disposizione anche il palazzetto dello sport. La dottoressa Menolascina ci spiega però quale sarà l'organizzazione prevista per questa fase di vaccinazione. Sono convocati gli over 80 distanziandoli opportunamente con gli orari, per cui sono orari contingentati e quindi ci auguriamo, ma sicuramente andrà tutto bene perché è stato tutto organizzato nel dettaglio e quindi è tutto sotto controllo. Stamattina sono partite appunto le domiciliari e sono andate molto bene. Il poco tempo che abbiamo tra una seduta e l'altra la utilizziamo per serrare le fila e riorganizzarci e superare le criticità lì dove si sono verificati dei piccolissimi inconvenienti.